Salve al popolo di YouTube, come va? Spero bene, certina. Il pianotto di maggio bis, voi sapete, gioca una sola previsione, così come piace a me. Quindi per non avere uno spreco, una sola previsione, è alla portata di tutti. Qui c'erano i tre ambi, 27 e 57, 27 e 87, 57 e 87. Ed è uscito 27 e 58, così come consigliato. Eccolo qua. Quindi dal lunedì sarà pronto, proprio perché è sortito. Io per quello non ho fatto uscire il pianotto di giugno. Che a me non va che le persone devono giocare più di una previsione. È una sola previsione, è questo il mio modo di fare, così le persone possono seguirle. Perché questo è fondamentale. Cioè spiegare alle persone come giocare, per non giocare più di una previsione. E da tutte le altre parti, voi lo sapete, non funziona così. Giocano due o tre previsioni in un mese, nei mensili e nei giornali. Qui si gioca una previsione. Come si va all'incasso? Come in questo caso. Ci sarà il lunedì nuovo di giugno. Quindi faccio veramente gli auguri a tutte le persone, a tutti gli scontini che stanno arrivando. A proposito, qui è arrivato qualche altro attestato del terno che vi ho regalato sempre sul mio canale. Ed è un piacere aver mandato in banca tante e tante persone a vincere i soldi. Qui con appena 50 centesimi. Ma parliamo del terno secco beccato sul Palermo. Regalato per tutti quanti in omaggio. Un attimo solo. Allora. Vediamo un pochino. Sennò poi vi devo postare domani. Sì, è l'unico moto. O dopo domani, semmai domenica farò un altro. Un altro video. Poi, la previsione che avevo messo alla lavagna. Un attimo che sposto il forno. Sposti il lionotto. E vi ricordo che che il lionotto di maggio già qua avevamo ingassato alla grande con l'ambo secco e doppio ambo in cinquina su bari cani. Questa è la previsione che avevo postato. 5075 di cui il terzo numero non ce l'ha scritto come vedete. E si vinse con 5075. Poi ovviamente ho fatto vedere gli scontrini c'era il 25 e le ruote erano Cagliari, Palermo, Torino. Ieri sera quindi il 25 maggio colpito su Palermo che era una delle due sue ruote. Vedete? e domani vi farò vedere gli scontrini anche di questa giornata. Quindi per adesso auguro a tutti. E come vedete è un prodotto che con una sola previsione fa la differenza. Ok? A lunedì per il lionotto di giugno.